Programma Italia Ieri, Oggi è sempre la cultura, la tradizione, un programma tematico di musica, di folclore, di tradizioni, di amicizia, di lengua veneta, triveneta, dialetti dell'Italia, del Brasile, insieme con Raggio Amisaggi, Bento, buongiorno, buongiorno, un caro saluto a tutti voi italiani e non italiani di qualsiasi parte del mondo, grazie per l'ascolto, un programma per mandare avanti la canzone, la musica dei nostri antenati, soprattutto emigranti in Brasile, e che quest'anno compie 145 anni dell'arrivo delle prime famiglie a Nova Milano, località di Farropiglia, Serra Gauscia, allora di Roma, Tommaso Isquilacci con la bella poesia di questa domenica, buongiorno Tommaso! Buongiorno, buongiorno caro Renato, un buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Radio Conegliano e di Radio Amisade, auguro un feliz domingo a todos amigos brasileiros, una buona domenica a tutti noi. Oggi vi recito una poesia che ho scritto ascoltando il battito di un ricordo indelebile. Il titolo Quando voleranno i fiori Quando iran avoaras flores Quando voleranno i fiori Rio, la vita ti devo Nessun senso avrebbe questo cielo Se non avessi scoperto la meraviglia Nascosta dal fato nel tuo seno Madre, sono di un paese lontano Lasciati sfiorare la chioma Desidero inebriarmi del recondito nettare Così potrò crescere, respirare pace Sia solo per un attimo fugace Madre mia Mamma mia inquieta Fai esplodere il fulore per i tuoi piccoli ignari Essi sono la tristezza di un mondo che se ne infischia Sei un disegno doloroso Difficile è carpirne il mistero Ma il celato portale conduce al di là dell'oceano Invincibile Ove l'arcobaleno di Corolle riceverà ordunque Una sistese di bene Figlia di quel Cristo Che non tutti riesce ad abbracciare Ammantali tu Mozza la mano che viola il fiore Nell'intimo del suo candore Orsù Sentiti privata dalla nobiltà Per l'infimo rapace Che si annida nella tua purezza E agisce senza grazia Sublime creatura Discesa per un battito dell'altissimo Risorgi e togli l'ossigeno A chi non si concilia con la tua gloria Sei grande Sei di chi non è mai stanco di cercarti Speranzoso di vederti trionfare Sui vermi maledetti Quella massiccia statua Eretta per proteggerti Si inchinerà Non riuscendo più a sostenerti Non ha lacrime da versare Per affogare un destino Che si accanito Con chi ha la sola colpa Di essere nato La rosa più bella Da te germoglierà E sarà la benedizione Partorita dal tuo cuore Per il supremo volere Il faro accecante Per l'umanità perdente Quando irà a voare As flores Rio A vita io ti devo Nenhum sentido Teria este céu Se io non tivesse Descoberto A maraviglia Escondida Pelo fado No teu seio Mare Io so da un paese distante Deixe-me acariciar Teus cabelos Desejo Menebriar Do recondito Nectar Assim serei capaz De crescer Respirar paz Seja somente Per un attimo Fugaz Madre mia Minha ma inquieta Fa la furia Explodire Per i sui Pequenzi Insonti E le sono A tristeza De un mondo Che non si incomoda Tu és un desenho Doloroso È difficile Entender Teo misterio Ma il portal Esconso Leva além Do invencibile Oceano Onde il arco-iris Das corollas Receberà Finalmente Pradarias Immaculadas Filho Daquele Cristo Que nem todos Conseguo abraçar Amanta-os tu Amputas A mão Na esperanza Farol Grazie a voi Per l'ascolta Qua da Renato Niquetti Sempre un saluto Ovunque sei Ovunque Vou dire Onde você estiver Um abraço Com afeto Muito obrigado Por ouvir este programa Temático E agora Nós transmitimos A poesia De Tomaso Esquilat Direto De Roma Capital Da Itália Para os amigos Da Itália E do Brasil Através das frequências De Rádio Coneliano E Rádio Amizade Bento Allora da Renato Niquetti Dal giornalista Antonio Luis Spicoli Direzione Carlos Domingo Spicoli Roberto Enricone Andrei Cruz E tutta la squadra Di Rádio Bentu Amizaggi Rádio Coneliano Un cordiale Saluto Una buona Settimana Continuate con la Programmazione Di Rádio Amizade Bento E Rádio Coneliano Buon ascolto Grazie Amizzi